I toni sono sobri e ridotti nel rispetto del covid ma c'è una serenità e la consapevolezza che finalmente stiamo per superare l'emergenza. E' il messaggio che emerge con chiarezza dalle celebrazioni che si sono svolte questa mattina presso la caserma provinciale della Guardia di Finanza di Salerno in Via Duomo in occasione del 247esimo anniversario della Fondazione del Corpo alla presenza anche del prefetto di Salerno Francesco Russo e del Vescovo Monsignor Andrea Bellandi. Come ogni anno i festeggiamenti sono stati anche l'occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto che in questi 16 mesi di convivenza con il covid ha dovuto necessariamente adeguarsi alla gestione dell'emergenza sanitaria. Lo ha ribadito sia il Presidente della Repubblica nel messaggio augurale che è stato letto in apertura della cerimonia che il comandante provinciale Danilo Petruccelli ricordando tutti gli ambiti nei quali durante sia il servizio ordinario che straordinario i suoi uomini e le sue donne sono stati impegnati. La lotta all'evasione fiscale in provincia di Salerno si è sostanziata nell'esecuzione di 258 interventi e recupero di oltre 123 milioni di euro. Le imposte base sono state quantificate in 69 milioni di euro 32 gli evasori individuati. Particolare attenzione è stata rivolta anche al contrasto e a tutela della spesa pubblica. Le frodi in danno del bilancio nazionale ammontano ad oltre 2 milioni e mezzo di euro. 19 le persone denunciate. Tra le inchieste ricordate quella che ha coinvolto il Sindaco di Eboli oggi agli arresti domiciliari e quattro funzionari dei comuni di Eboli e Cava dei Tirreni per ipotesi di corruzione e abuso d'ufficio. Ed ora come ha dichiarato al termine della cerimonia il generale Petruccelli è il momento di concentrare l'attenzione sulla ripartizione dei fondi del Piano nazionale di resistenza e resilienza. Sì chiaramente il bilancio del 2020 risente di questa situazione di emergenza che ancora insiste nel nostro paese. Per quanto come è stato sottolineato si intravede auspichiamo tutti quanti la fine del tunnel. La Guardia di Finanza come le altre istituzioni ha dovuto adeguare i propri obiettivi per tener conto della situazione emergenziale. Quindi il comando generale ha dato delle direttive ben precise per le quali i militari sul territorio sono stati impegnati innanzitutto insieme alle altre forze di polizia per garantire l'osservanza delle prescrizioni anti-covid. Poi sono stati fatti tutta una serie di interventi anche per quanto riguarda le varie provvidenze e gli aiuti che sono stati dati alle famiglie perché non sono mancati casi di irregolarità di percettori senza titolo. La sfida continua chiaramente perché adesso nel 2021 l'attenzione è tutta concentrata sul tema dell'erogazione dei contributi dei fondi comunitari, il Recovery Fund e il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza stilato dal Governo. Sono risorse importanti sulle quali bisogna vigilare perché è un'occasione unica di rilancio nel nostro Paese e la Guardia di Finanza farà la sua parte perché ha tutti gli strumenti, le risorse, le professionalità, le competenze necessarie per vigilare attentamente.